So che lavorare con le gemme, con quattro rischio e non me, e papà non è mai stato tranquillo, ma ora dai, non mi risaperi più, lo farlo anche tu. Sono importante sulla terra, dal momento che, io sono qui per proteggerti sempre, quindi devo scegliere se dì ti o no, di qua e qua e sto. E credo che sia meglio, che non ti dica nulla di quello che so, devi stare serena, e so che lo sarai, fino a che lo saprai, dal senso che tu soffri per quello che succede a me, non voglio che. E what it takes?